Da ieri è tornato a splendere il sole sul Molise, emergenza, rientrata, arrestano i non pochi danni lasciati dal maltempo. Disagi maggiori in basso Molise, dove dopo le mareggiate, le abbondanti piogge e gli allagamenti, è stata interrotta l'erogazione dell'acqua potabile in molti comuni, tra cui termoli. Stop al flusso idrico dunque a causa della piena del biferno e la torbidità elevata in ingresso nel potabilizzatore dell'iscione. Oltre a termoli, comuni che anche oggi subiranno disservizi sono Guglionesi, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia. Quanto alla viabilità, la provincia di Campobasso ha comunicato che sono chiusi al traffico in alcuni tratti sei strade provinciali, invitando al contempo gli automobilisti a non spostare o forzare le transenne della sinarca, perché la strada presenta ancora troppa melma e non sussistono le misure idonee a garantire l'incolumità dei passeggeri. Partita la conta dei danni, campi e capannoni ancora allagati nella zona di Rio Vivo, agricoltura in ginocchio con coltivazioni purtroppo andate distrutte, soprattutto nei terreni che si trovano a valle del sinarca. Monitorato costantemente è anche l'invaso dell'iscione dove prosegue il rilascio programmato dell'acqua. E diventa sempre più prioritaria la messa in sicurezza del Biferno, ora possibile grazie ai 15 milioni di euro che sono tornati nelle casse regionali per i lavori di consolidamento degli argini del fiume Biferno. Le somme rischiavano di andare perdute a causa di un rallentamento da parte del soggetto attuatore all'epoca, il COSIB, il Consorzio Industriale della Valle del Biferno.